Cari Toccolini e cari Toccoline, salve a tutti. Eccomi qua. Ma no, non posso fare il buffone anch'io, un clown, per farmi ascoltare e per dire a voi quello che sta succedendo a Forlì. Che cosa sta succedendo a Forlì? Beh, primo, in questo fine settimana ci sono stati due eventi importanti, Happy Family e gli Scout che hanno riempito di giovani il Centro Storico e la Fiera. Secondo appuntamento, quello che ci sarà la prossima settimana, domenica, sabato e domenica, Respira Forlì. Un'altra occasione per stare insieme, giovani e meno giovani, in bicicletta, a piedi e per vivere il Centro Storico e tutto lo spazio intorno a Forlì. E poi il 17 marzo avremo l'occasione di riflettere ancora una volta, sempre in piazza, sulla nascita della nostra nazione in occasione dell'anniversario dell'Unità d'Italia. Questo è il modo per ricordare, far rivivere il Centro, stare in modo compatibile, ambientalmente sano dentro il nostro spazio e dare soprattutto una voce ai giovani. Basta con la gerontocrazia. Salve a tutti. Grazie. Grazie.